Ciao a tutti, bentornati in un nuovo video. Oggi torno a parlarvi di letture, le mie letture effettuate durante il mese di aprile, quindi sono abbastanza in ritardo, però piano piano riuscirò a fare tutto. Sono cinque i titoli di cui parlo oggi e parto subito perché ho paura di metterci veramente un'eternità. Il primo titolo riguarda la mia scelta fatta per l'Abtilie Reading Challenge del mese di aprile. La TASC chiedeva di scegliere un libro biografico o autobiografico di una casa editrice indipendente. Io avevo diversi titoli in casa tra cui avrei potuto scegliere, ma ne ho scelto uno in particolar modo perché tempo fa l'avevo recuperato spinta da un'estrema curiosità, ma in realtà questo libro stava lì in libreria ad attendere il suo momento. E quindi ho deciso che era arrivato quel famoso momento. Si tratta di Shakespeare & Company di Sylvia Beach, edito Neri Pozza. Un titolo che mi è piaciuto veramente tanto. Racconta la storia di un personaggio femminile che, seppure descritto come uno scricciolo di donna perché è molto piccola, minuta, fragile, in realtà è di una potenza unica. Una donna, Sylvia Beach, che nel 1918 in America aveva un sogno, quello di aprire una libreria francese nella sua città appunto in America. L'America però sta attraversando un periodo di estremo proibizionismo e Sylvia capisce subito che questo non si potrà mai realizzare. Non si arrende però, decide di invertire le carte in tavola, di andare lei a Parigi e di portare così la letteratura americana in Europa e di portarla appunto a Parigi, in Francia. Nel 1919 nasce così la Shakespeare & Company, apre i battenti una piccolissima libreria sulla Rive Gauche che sarà totalmente innovativa da tutti i punti di vista. A cominciare da un aspetto fondamentale, la possibilità che Sylvia Beach dà ai suoi clienti, agli assidui frequentatori della sua piccola libreria, di potersi abbonare attraverso una tessera e poter prendere in prestito i titoli della sua libreria, da portare poi indietro una volta terminata la lettura. È una donna, è una libraia con la L maiuscola che capisce che più importante del guadagno è sicuramente la possibilità di diffondere la cultura, di diffondere la lettura. Si rende conto che nell'epoca in cui vive le persone non hanno la possibilità di potersi permettere, o almeno non tutti, di potersi permettere di acquistare dei libri e quindi decide di ovviare a questo problema con l'abbonamento. Ha poche amicizie, ma una fra tutte è molto significativa, quella con una libraia che lavora a una libreria proprio di fronte, nella strada di fronte, che anziché chiuderle le possibilità nel settore, anzi diventa una sua grande amica, una sua grande fan, le manda a tantissimi clienti e la inserisce letteralmente nel mondo dell'editoria, facendole conoscere tantissime personalità di rilievo. Due tra queste personalità che frequenteranno assiduamente la Shakespeare Company sono due personalità del calibro di Hemingway e James Joyce, due uomini che stanno muovendo i loro primi passi verso il loro futuro stellare, due uomini che sono anche molto scomodi dal punto di vista letterario. Joyce è descritto minuziosamente da Sylvia Beach nelle sue caratteristiche fisiche, negli atteggiamenti, come si veste, nella sua quotidianità familiare. Lei diventa una grande amica di Joyce e ci racconta i dettagli, i segreti della loro amicizia. Joyce è stato rifiutato dagli editori più importanti inglesi e americani. La sua opera mastodontica, l'Ulisse, è stata letteralmente censurata da tutti per paura di finire in tribunale. Nessuno si vuole imbarcare in questa impresa. Sylvia Beach ci vede lungo, decide di provarci lei, decide di imbarcarsi in questa titanica impresa e pubblica, fa stampare più di mille copie dell'Ulisse distribulendole in tutto il mondo. Quindi capite bene che personaggio abbiamo di fronte. Attraverso questo libro scopriremo tantissimi retroscena, tantissime cose molto interessanti che riguardano non solo la passione, i sogni di una persona, di un individuo, chiunque esso sia, che decide di andare anche contro corrente, contro l'epoca in cui si sta vivendo, contro il proibizionismo, contro tutto e tutti, pur di portare avanti i suoi obiettivi e il suo sogno, ma scopriremo anche tante altre cose sul mondo dell'editoria, della letteratura, curiosità su scrittori veramente importanti. L'ho trovato un libro molto interessante, dà una scrittura anche molto semplice, molto fruibile, infatti l'ho praticamente divorato. Ve lo straconsiglio, è un titolo veramente, veramente bello, è assolutamente da avere in libreria. Andiamo avanti con un altro personaggio femminile che ho incontrato nella prossima lettura, nella lettura successiva a questa. Un altro personaggio femminile molto importante, di estrema forza, che non conoscevo, è anche qui una storia vera, solo che non si tratta di un romanzo ma di un saggio. Il saggio di Kate Summerscale, che si intitola La rovina di Mrs. Robinson, storia segreta di una donna vittoriana, edito in Audi. Siamo in un'epoca veramente difficile, siamo negli anni, nel 1859, quando nasce il Tribunale dei Divorzi. E ad essere il primo a presentarsi proprio letteralmente all'interno di questo tribunale, a chiedere l'annullamento del matrimonio da sua moglie Isabella, è proprio Mr. Robinson. Mr. Robinson porta con sé una prova schiacciante, che è il diario segreto di Isabella. Lui lo porta in tribunale e dice che vuole assolutamente che il suo matrimonio venga sciolto, venga annullato, perché è sicuro, dopo aver letto questo diario, che la moglie ha avuto una relazione, l'ha tradito, con il suo medico, un certo Edward Lane, un medico che sta muovendo i primi passi in un settore, diciamo che all'inizio, diciamo, della sua carriera, ecco, della carriera di questo medico, ossia è un medico che si occupa di idroterapia. Lui ha una tenuta dove ha dei bagni termali, dove tiene dei bagni termali, e cura i malati che hanno disturbi fisici, psichici, di tutti i tipi, delle ossa, dello stomaco, del fegato, attraverso questi bagni termali. Lui è convinto che il futuro della medicina sta proprio nell'idroterapia. E proprio Isabella è un'assidua frequentatrice di questi bagni termali e nel suo diario racconta della sua quotidianità e delle sue storie, delle sue avventure con questo medico Edward Lane. Tutto sembra assolutamente schiacciante contro Isabella. È un saggio che la Summerscale descrive in modo minuzioso. È riuscita a recuperare tantissimi documenti, ha attinto a tantissime fonti, tantissime sono le testimonianze che hanno visto questo rapporto crescere tra Isabella ed Edward Lane. Testimonianze dal calibro anche di persone di un certo livello, come Charles Darwin, che era un assiduo frequentatore di quei bagni termali e conosceva molto bene il medico Lane. Come vi dicevo, la Summerscale, nonostante sia un saggio e nonostante siano numerose le fonti e i documenti racchiusi qui all'interno, riesce a rendere la storia molto fluida, molto accattivante. È un personaggio femminile assolutamente scomodo, un personaggio femminile che è nato e cresciuto in un'epoca sbagliata. Questa è la sensazione che si ha. Una donna apparentemente fragile, estremamente annoiata, ma da una fantasia spiccata che scrive, che tiene questo diario per cercare di sentirsi libera, per cercare di liberare la sua mente dalla routine della quotidianità. Una donna che è sola con il proprio figlio, il marito è sempre lontano, lui è un ingegnere importante, il mister Robinson è un ingegnere importante, è sempre lontano da casa, lei è estremamente annoiata, estremamente ricca e decide di passare il suo tempo annotando i suoi pensieri. Questo farà sì da metterla letteralmente alla berlina, perché il suo diario e i suoi segreti più intimi finiranno in tribunale, finiranno ad essere minuziosamente letti e controllati da uomini che decideranno del suo futuro. Mi ha colpito moltissimo, per certi aspetti mi ha fatto anche arrabbiare moltissimo, ma è un saggio che vi consiglio veramente di leggere. Andiamo avanti e vi parlo di un altro libro che ho letto, che ad aprile ha fatto letteralmente praticamente il boom, perché è uscito a fine marzo e dietro l'uscita di questo libro si è creato proprio un hype eccezionale. Tutti ne hanno parlato, c'è stata anche un'enorme polemica dietro. Io però non mi sono fatta minimamente influenzare da nulla, né dai pareri delle persone che l'hanno letto, né dalla polemica in generale che c'è stato, né da come è stato presentato questo libro, dalla casa editrice stessa, devo dire la verità. Perché questo titolo io lo puntavo da quando se ne è parlato, diciamo, in Inghilterra, da quando è uscito in lingua originale, in inglese. Io ho aspettato la pubblicazione italiana, perché non leggo in lingua, ma appunto ho cercato di non farmi completamente condizionare dalle opinioni esterne. Sto parlando del ormai famosissimo e super sentito Le Sette Morti di Evelyn Arcastle, di Stuart Tarton e di Toneri Pozza. Un libro che è stato presentato come un giallo classico di Agatha Christie, mischiato alla serie TV Black Mirror. Mi sono trovata d'accordo per certi aspetti, per altri no. Cos'ha del giallo classico questo libro? Sicuramente l'ambientazione, i personaggi, il numero dei personaggi, perché è ambientato in una tenuta di campagna inglese, ci sono una molteplicità di personaggi, sono veramente tanti, e lo stile dell'ambientazione ricorda molto quello dei romanzi di Agatha Christie. Ma ci fermiamo lì, perché poi tutto il resto che c'è all'interno di questo volume, di questa storia, che è un mosaico costruito alla perfezione, secondo me, in cui i pezzi si incastrano minuziosamente, ognuno al loro posto, c'è un lavoro dietro di costruzione di trama qui, che è veramente magnifico, non ha nulla a che vedere con il giallo classico. Questo titolo mi ha ricordato molto di più qualcosa che non ha a che fare con i libri e con la letteratura in generale. Mi è sembrato di leggere una scenografia di Nolan, di Christopher Nolan, soprattutto un fortissimo richiamo a Inception nel film. Non so se l'avete visto. Ma l'architettura di questo libro, sia dal punto di vista ambientale, sia dal punto di vista delle caratteristiche psicologiche dei personaggi minuziose, dettagliate, degli avvenimenti che si susseguono, degli indizi che Tarton lascia nella scia della stesura del suo romanzo, mi ha ricordato moltissimo Christopher Nolan. Siamo in una tenuta di campagna inglese e si sta festeggiando un'occasione. L'epoca è quella degli anni 20-30, secondo me, ma non è specificata. Si sta festeggiando l'occasione del ritorno a casa di Evelyn Arcastle, una donna che manca da casa da diversi anni, ritorna in famiglia e si festeggia il suo ritorno con un ballo in maschera in questa tenuta di campagna. Quello che accadrà, ve lo dico in poche parole, la trama, perché mi limiterò a dire quello che c'è scritto nella bandella, perché non voglio farvi spoiler, perché questo libro va letto e assaporato nella sua interezza, non voglio rovinarvi l'esperienza di lettura, è che Evelyn morirà. Evelyn morirà per ben sette volte e ci sarà qualcuno che dovrà capire il meccanismo, cosa accade, come mai questa donna muore sette volte e soprattutto dovrà riuscire per primo a scoprire chi è l'assassino di Evelyn Arcastle. Questo è quello che c'è scritto nella bandella di questo libro, ma questo libro è molto di più, è molto di più, perché è una storia che attraverso un espediente, un gioco letterario che è quello appunto di questa scomparsa, di questa donna e di questo meccanismo che si deve, che si inceppa e si ripete per ben sette volte, sempre allo stesso modo e verrà visto da punti di vista differenti, attraverso questo gioco in realtà Stuart Harton prende l'occasione di parlare di tanto altro. Si, diciamo, parla di, soprattutto di colpa, si parla di peccato, si parla di redenzione, si parla di umanità all'interno di questo libro. Quindi io vi consiglio caldamente di leggerlo, io l'ho apprezzato moltissimo e nonostante c'è chi abbia detto che alla fine alcuni pezzi del puzzle che Tarton ha sparpagliato non si sono andati perfettamente a incastrare e che non tutto è stato svelato, anche questo io l'ho trovato una scelta corretta, una scelta secondo me ponderata da parte dell'autore, perché ha fatto sì da lasciare aperta la possibilità al lettore di inserire il parere soggettivo riguardo a degli avvenimenti. Vi faccio un esempio, soprattutto per chi ha visto Inception. Nella scena finale del film Inception moltissimi si sono lamentati di questo aspetto, la trottola che Leonardo Di Caprio fa girare sul tavolo, che è il totem che lo tiene legato alla realtà, quindi che lo tiene a contatto, in perfetto contatto tra la realtà e il sogno, quel totem gira e il regista si bloccherà all'improvviso con un nero senza farci capire se la trottola si ferma e cade o la trottola continua a girare. Ecco, Tarton fa la stessa scelta. Nella parte finale del romanzo vi lascerà liberi di interpretare alcune cose. io questa cosa l'ho trovata assolutamente geniale. Non vi dico nulla di più, perché, anzi, spero di essere stata chiara, perché purtroppo questo libro, secondo me, per poterne discutere, bisognerebbe fare degli spoiler giganteschi e andarlo a sviscerare pezzettino per pezzettino. Ma moltissimi di voi che non l'avranno letto veramente non mi va di fare una cosa del genere e quindi, chissà, forse un giorno potrei fare un video dedicato solo a questo titolo chiaramente dicendo dal principio che farò spoiler dall'inizio alla fine e analizzandone pezzettino per pezzettino. Mi piacerebbe farlo. Merita veramente tanto. Recuperatelo. Altro titolo letto, altra storia vera, facciamo un passo indietro. Questo è stato, diciamo, il mese delle biografie, delle storie vere, un libro che all'inizio avevo tenuto distante da me anni luce perché mi aveva inquietato sinceramente la scelta grafica della copertina, ma poi è stato mandato, è stato proposto dalla casa editrice per il letturindi e io l'ho visto nelle stories di Eleonora, di Mistortellino, mi sono troppo incuriosita e ho deciso di leggerlo subito. Si tratta di Vita segreta della bambola solitaria di Gennata, Nedito e O. Questa è una storia magnifica, è la storia di vita di un altro personaggio femminile estremamente, estremamente fragile. Se le due donne di cui vi ho parlato prima, sia Sylvia Beach, sia Isabella Robinson, sono donne che hanno un'apparente fragilità alle spalle ma che in realtà si rivelano di una forza estrema, qui abbiamo una donna descritta all'interno che è veramente fragile, una storia di vita che mi ha commosso tantissimo, mi ha fatto arrabbiare tantissimo per certi aspetti, ma che vi consiglio caldamente di leggere. Da cosa nasce tutto? Tutto nasce da un ricordo che ha l'autrice, Jean Nathan, un ricordo di infanzia. Lei possedeva un libro illustrato per bambini e improvvisamente questo libro le riaffiora la memoria in maniera proprio prepotente. Lei si rende conto che ha voglia di recuperarlo, lo cerca, si rende conto di non averlo più, si reca in biblioteca per poter chiedere la possibilità di sfogliarlo, anche per capire come mai lei si senta così legata, senta questo richiamo a questo libro del passato. e la biblioteca gli comunica che il libro è impossibile da recuperare perché è ormai uscito totalmente fuori produzione e i collezionisti lo cercano tantissimo, sono pochissime le persone che ne possiedono delle copie proprio perché è così raro, quindi le consigliano di contattare qualche collezionista. E' quello che fa, contatta una collezionista e riceve questo libro, un libro illustrato e interamente curato da Dahl Wright, una donna che è un'ex fotografa, modella e illustratrice anche di libri per bambini che ha fatto grandissimo successo all'epoca quando uscirono questi titoli. Perché questo successo? Perché questa particolarità in questi libri illustrati? Furono libri che destarono non poco scalpore perché pur essendo destinati a un pubblico infantile all'interno c'erano delle fotografie che raffiguravano la bambola, una bambola doll, la Lonnie doll, una bambola particolare che esisteva in America che Dahl Wright aveva fotografato creando delle microstorie e appunto pubblicando questi libri. Ma le scene fotografate Dahl Wright erano un po' discutibili e quindi aveva destato appunto molta curiosità e molto scalpore questi libri illustrati. Da lì Jen Nathan comincia a capire che il vero motivo per il quale lei si è sentita così incuriosita e spinta al recupero di quei libri non è in realtà, non era il libro in sé. Bensì cercare di scoprire chi ci fosse dietro Dahl Wright, chi fosse questa donna così misteriosa che aveva pubblicato questi libri. attraverso vari mezzi riesce a contattare chi le racconterà di lei e alla fine la stessa Dahl Wright che ormai è anziana ed è in fin di vita ricoverata in una clinica. All'interno di Vita Segreta la bambola solitaria noi troveremo raccontata l'intera vita dalla sua nascita di questa donna. Una vita assolutamente difficile, una vita estremamente dolorosa di una bambina inizialmente molto fragile che si è ritrovata a crescere anche per certi aspetti da sola e che si è ritrovata ad avere un legame fortissimo con questa bambola con cui è praticamente cresciuta. Una bambola che gli era stata data in regalo da sua madre quasi come a volere sostituire a volere colmare un affetto che lei non aveva ricevuto più da un certo momento in poi della sua infanzia. Una bambola che è diventata quasi come una sorella un'amica una confidente per lei una protagonista così importante della sua vita che si portava ovunque e appunto la fotografava e da lì poi l'idea di scriverci anche dei libri. È ricco di fotografie al suo interno il libro fotografie della vita di Dara Wright del rapporto con la sua famiglia del fratello col padre che non ha avuto più il rapporto soprattutto con la madre un rapporto estremamente difficile perché le due donne principalmente che ci vengono descritte all'interno di questa storia che sono Dara Wright e la madre perché lei è cresciuta e ha vissuto fino all'ultimo fino agli ultimi giorni della vita di sua madre in stretta simbiosi con lei sono due donne completamente opposte ma che conducevano una vita molto molto simile molto particolare è un libro che vi straconsiglio toccante ma che in certi momenti vi farà anche tanto tanto arrabbiare concludo le mie letture con l'ultimo titolo che è il titolo che ho scelto invece per la Reed Christie 2019 io ho scelto di leggere L'assassino di Rogera Croyd che ho letto all'interno di questo volume ce l'avevo all'interno della raccolta I capolavori di Agatha Christie è molto pesante quindi lo appoggio allora L'assassino di Rogera Croyd è stato definito uno tra i più famosi e ingegnosi romanzi di Agatha Christie da questo romanzo praticamente si sono ramificate sono partite tantissime cose tantissimi autori si sono ispirati a questo romanzo tanto è vero che cercando in rete ho scoperto che è uno dei romanzi più spoilerati in assoluto vi potrebbe succedere di scoprire come quale sia il famosissimo twist che ha fatto sì che questo diventasse romanzo più importante probabilmente di Agatha Christie romanzo più copiato dal quale si è più preso ispirazione cercando in rete anche di altri romanzi perché appunto molti si sono ispirati è stata un'idea geniale quella che l'autrice ha inserito alla fine del romanzo appunto mettendo questo twist così particolare da renderlo così diciamo discusso cosa ovviamente come vi dico sempre è un giallo quindi anche in questo caso come le sette morti di Evelynar Castle ci sono cose che veramente non si possono dire però in linea generale vi posso dire che è ambientato in una cittadina fittizia inglese che è King's Abbot dove si è da poco ritirato Hercule Poirot è in pensione e si sta dedicando alla coltivazione delle zucche in quell'occasione a King's Abbot si è verificato un qualcosa di strano perché è da poco deceduta una importantissima vedova molto ricca la signora Ferrars è morta e apparentemente insomma all'inizio sembra che si sia suicidata perché questa donna conservava un segreto di lì a poco però le morti diventano due perché a morire sarà proprio Roger Acroyd uno dei famosi dei più famosi illustri uomini di questa cittadina di King's Abbot nonché fidanzato della signora Ferrars a questo punto si comincia a pensare che probabilmente più che di suicidio ci sia dietro qualcosa che abbia a che fare con omicidio quindi da lì piano piano si comincerà ad andare a fondo della situazione e a chiedere aiuto a Hercule Poirot ad intervenire per indagare sarà proprio un membro della famiglia della signora Ferrars la cosa molto particolare di questo romanzo è che la voce narrante dell'assassino di Roger Acroyd per la prima volta in Agatha Christie è proprio quella di un personaggio stesso del romanzo un dottore il dottor Shepard un dottore che stava proprio seguendo la vita diciamo le vicissitudini della signora Ferrars io più di questo non vi posso dire se non che l'unica cosa che posso aggiungere è che il personaggio che mi ha colpito di più in assoluto è la sorella di questo medico del dottor Shepard che è una donna descritta come estremamente pettegola cioè il fratello stesso mentre racconta la storia perché è lui il narratore che racconta la storia dice che a lei non sfugge nulla lei sa tutto di tutti ancora prima probabilmente che le cose accadono quindi se qualcuno vuole sapere vuole indagare vuole andare a fondo di una vicenda basta chiedere a sua sorella e ho scoperto leggendo in rete che Agatha Christie successivamente si è ispirata proprio a lei quando ha creato il personaggio di Miss Marple quindi questa cosa mi è piaciuta particolarmente questa è stata appunto la mia ultima lettura del mese di aprile L'assassino di Rogera Croyd per la Reed Christie 2019 come sempre vi invito a partecipare se volete leggere i titoli di Agatha Christie e recuperarli piano piano questa è l'occasione ideale la challenge ideata e gestita dai Radical Ginge Marco e Davide su Instagram li potete cercare se usate l'hashtag Reed Christie 2019 li trovate sicuramente questo è tutto io spero che il video non sia venuto troppo lungo vi rimando al prossimo video e vi mando un grossissimo bacione a presto ciao